Ciao creatura, io sono Eka Desplendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai ASMR. Questo sarà un semplice, 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 tranquillo, 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 tranquillo video dove coloriamo questo album per adulti. L'album da colorare, libro da colorare, quaderno da colorare, quel che vuoi, con le sirene e lo coloriamo con i pennarelli a base alcolica. Alcune pagine sono già colorate perché le ho colorate con le matite. Dato che i disegni si ripetono e ho paura anche con i pennarelli macchio dall'altra parte, andiamo in fondo al quaderno, al libro, a colorare quello in fondo, magari anche l'ultimo disegno, quello che già c'è. Questo disegno si chiama Waiting e c'è questa sirena che disegna traccia con il dito sulla sabbia. Fa un cuore, un cuore, un cuore, un cuore, un cuore. È un disegno un cuore. È un disegno un po' malingonico, romantico. Spero si stia vedendo qualcosa perché il disegno è tipo come, sembrano tipo delle fotocopie e è molto molto chiaro perché si è fatto matita. Qui abbiamo la nostra reference con tutti i colori. In quanto sirena mi piace l'idea di poter scegliere magari un colore di capelli particolare, non solo biondo, rosso, ma castano, nero, magari nero o no. Potremmo fare un bel lilla. Potremmo fare un bel blu-violet, line blu-violet deciso, B281. Vediamo su questa carta come reagisce. Comunque ho comprato l'alcol rosa. Per aggiustare, diciamo, per salvare il mio illuminante olografico. Bello, bello, si uniforma bene il colore. Sto ripassando un po' quelle che in teoria sono le ombre che vedo nel disegno dei capelli. Cercando di ripassarle col pennarello per vedere appunto se si uniforma un po' il colore o se resta uno strato più scuro. E mi piace perché anche se abbiamo passato così un po' senza una regola di linee, il colore si è uniformato tutto. E dove ho ripassato, dove ho ripassato era un po' più in ombra, un po' più scuro. Quindi mi piace molto. Era l'effetto proprio che pensavo sarebbe uscito ed è così per foto. Cioè, bellissimo. Adoro. Super topi. Adesso proviamo un pennarello per la carnagione. Allora, vediamo un po'. Per forza deve essere uno di questi. Potrebbe essere un E293. Oppure un Pink Vanilla. Oppure anche questo Eggshell o un Pounder Pink. Facciamo R192. Facciamo la palletina. Vediamo come viene. Grazie. Grazie. Aiaiai, molla l'altro colore. Dall'altra parte si vede il colore. Non so se è per via delle ombre, però appunto sembra che la nostra sinera abbia preso molto sole. Adesso dobbiamo decidere che colore fare la coda la farei Scarlett, ma non c'entra nulla. Di solito stanno sul tema dell'azzurro, del verde, no? Del viola, Massimo. Scarlett è questo. No, sembra un po'. Passa troppo. Dopo YouTube non capisce. Potremmo fare un po' di questo, di sabine. Aspetta, di qua ci stanno i verdi. Allora. Un po' di Ice Blue. Che è questo. Ma mi viene da scegliere sempre a turchese, Green Light. Facciamo Ice Blue, G482. E magari facciamo qualche riflesso di un, di quello è blu. Cos'è? Di Fresh Blue, B389. Così proviamo il penarello bianco per le sfumature che ancora non ho provato, perché non voglio sporcare la punta. Così proviamo il penarello bianco per le sfumature. Vediamo, vediamo col bianco. Vediamo col bianco. On scegliere. Ok. Chi descrittà. Quiero scol¡赤! beh insomma pensavo meglio allora mettiamoci un altro colore il G191 proprio color sirena un altro colore un altro colore un altro colore un altro colore si sfuma bene bisogna capire come funziona in pratica bisogna un po' passare con il colore che si vuole sfumare sopra l'altro colore in alternato con questo qua che secondo me questo è alcol e basta quello bianco infatti adesso la sfumatura è molto più omogenea mi piace molto adesso che ho capito vediamo come procedere a fare qualche sfumatura anche sui capelli vediamo che colore è B288 blu scuro va bene proviamo B288 blu scuro 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 blu Gu fulfil blu scuro Sto sperimentando Adesso non guardo neanche i piccolori Vado proprio a sentimento Non guardo neanche i piccolori Non mi piace come sta venendo Non guardo neanche i piccolori Sfumare con i pennarelli Sembra un po' giocare con gli acquerelli Non mi era mai successo Perché quel pennarelli lasciava tutto quel segno Invece qua che sia omogeneo E sta prendendo forma Pian piano E' veramente soddisfacente Molto molto divertente Si possono creare delle luci, ombre, delle sfumature Molto molto interessanti Secondo me Sta prendendo proprio vita questa capigliatura Bella, mi piace E volevo farle un po' di make up Se riusciamo Vediamo Non li vado a mettere in ordine come erano I pennarelli Perché non mi ricordo l'ordine Nel mentre ho controllato la punta E questa acqua bianca non si è sboccata Minimamente Proviamo con Dark Pink Che peccato, vedi perché ho scelto l'ultimo basino peccato che abbia passato di qua il colore qua praticamente abbiamo un secondo disegno per questa tipologia di pennarelli c'è bisogno di un foglio molto spesso oppure di attaccare qualcosa sul retro del disegno, un guardoncino o qualcosa la sabbia yellow gray, che dici? yellow gray no, perché è grigio su grigio, ci vuole un belloncino un dark yellow forse no, un from dust from dust e 371 speravo più chiaro non sempre si uniforma, non capisco per quale motivo no, pian piano asciugandosi, ritiro quello che ho detto prima non sempre si uniforma ho fatto la capolanda e si è sporcata con un po' di sabbia io non c'entro ok è stata lei impanarsi come una cotoletta finito beh come è andato questo disegno pensavo peggio l'ho un po' impanata come una cotoletta perchè è una certa totalmente rilassata che insomma si fai sciolta e infatti ecco i risultati mi è piaciuto molto questa sfumatura qui con tre diversi colori che erano tra il verde e l'azzurro poi i capelli mi è piaciuto anche qua giocare con le sfumature con diversi colori che con pennarelli e matite comunque anche con le matite sarebbe stato difficile di più facile sfumare con le matite ma sicuramente con dei classici pennarelli sarebbe stato impossibile e il mare inizialmente pensavo di aver fatto una cioffecata invece è venuto proprio bene asciugandosi pian piano si è amalgamato tutto insieme senza fare sfumature grazie 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 non ne ho alcun merito perchè sono stati tutti i tentativi così a caso e la sabbia va bene l'ho un po' impanata però dai c'è qualche secondo me asciugandosi fa con l'effetto del mare che perde anche perchè qui era uguale a qui dieci secondi fa invece adesso si è omogenizzato no no omogenizzato non credo però è più omogeneo diciamo ecco ed è anche un po' la sensazione quasi involontaria ecco involontariamente della sabbia delle montagne di sabbia qua invece ho fatto tutto qui c'è l'ombra della c'è l'ombra della sirena quindi va bene così e adesso secondo me pian piano si sarà più omogenea e poi è ripassato anche il solco qui del cuoricino per rimarcare ecco che lei sta facendo qui stracciando con le dita questo cuoricino qui un po' malinconico perchè è uno sguardo un po' malinconico secondo me perchè l'ho fatto con gli occhi verdi alieno però vabbè pensavo che fosse un colore un po' più chiaro però comunque c'era l'oscuro qui della della fotocopia perchè secondo me sono fotocopie sono disegni fotocopiati e anche se avessi usato il colore più chiaro tutta la palette di questi penarelli sarebbe uscito scuro perchè sotto c'era grigio scuro e quindi mi giustifico così no dai scherzo e vabbè spero che questo video ti abbia fatto rilassare grazie per continuare a seguirmi per lasciarmi tutti questi like per i tuoi commentini anche random e io come sempre ti auguro non abbiamo fatto un make up strano questa volta negli altri si ne ha un'avanti come sempre ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura ciao